Siamo tornati nella piscina Adesso sono rimasto solo Stavo cercando il mio figliolo Che non mi riesce a trovarlo Ora proverò a chiamarlo Cristian Cristian Lo abbiamo trovato Andiamo a vedere cosa fa sott'acqua Prima dobbiamo andare più a fondo Ok andiamo più a fondo Oggi non faranno le onde Perché tra un po' viene il diluvio Non so se si vede Da Pollonica verso Tosseto E' arrivato il diluvio Ok siamo già nell'acqua alta E' ancora di più Guardate Abbasso loyaltus Ora io già andrò Provevo a chiamarlo O l'aspetta troppo ho paura, sto accadendo eh, tre la maschera vado a fare una ripresa sott'acqua eh, bel viaggio è fatto hai tanto ci sottato? no, non è appannata sembra appannata? no ok, per il momento vi saluto per il momento è tutto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto della mia bellissima vacanza all'acqua village acquaparche di Pollonica iscrivetevi al canale attivate la campanella in lira lasciate un like se vi è piaciuto scrivete nei commenti quali altri video volete e L di Larini Fili Cristia e ci vediamo la prossima volta adios ah, abbiamo trovato anche il posto dove fare i tuffi vai, tre per me come tocco io puto i piedi come tocco va bene ci sta ci sta guarda un po' saluta bene siamo arrivati alla conclusione c'è ancora qualcosa di cioccolato dobbiamo fare una confusione scusa la calzone ok va bene e questa qui è la vacanza all'acqua village di pollonica mettete un bel like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale iscrivetevi nei commenti e ora tutti insieme l di larini c di cristian e ci vediamo alla prossima ciao ciao io andavo al bate per 5 minuti che è passato che è vero però niente esatto io te l'avevo detto e papà mi aveva pure abbandonato era solo perchè da stamattina no non è che ti ho abbandonato non ti vedevo più allora perchè non aspettavi dall'uscita del bate che avevi già finito se ho fatto 5 minuti non sembra che ho finito ok video fail bene siamo arrivati all'uscita ora davvero è la fine moriremo tutti ci vedremo allora l'anno prossimo ciao